Salve a tutti, io sono Mr. Rob e quello che state per vedere è un recappone dell'intera serie televisiva The Walking Dead, ufficialmente il recappone più richiesto da coloro che seguono questo canale. Certo, è una serie da 11 stagioni, di conseguenza ho dovuto lavorare di cesoie, ho tolto parecchie sottotrame, ho eliminato svariati personaggi secondari, sono rimasto ancorato alla trama principale. Spero mi capirete, perché in caso contrario vi sareste beccati un video da 12 ore che è leggerissimamente poco vendibile. Questo è il video per tutti coloro che hanno iniziato a guardare la serie e dopo un po' si sono rotti e hanno smesso, ma sappiate che io non vi giudicherò, non vi giudicherò mai. L'unica cosa che vi chiedo è un like a questo video per il riconoscimento a questo lavoro, un'iscrizione al canale nel caso vogliate dare un'occhiata agli altri recapponi, un clic alla campanella che così fa tutto al lavoro lei, non dovete star qui a controllare ossessivamente le uscite del canale, direi che a questo punto possiamo cominciare. Ecco a voi Rick Grimes, un tranquillo poliziotto di una cittadina della Georgia che resta gravemente ferito durante un'azione, finisce in coma e dopo un mese si risveglia scoprendo che il mondo è in balia dei morti viventi, così all'improvviso. Cerca di raggiungere la sua famiglia ma non la trova in casa, in compenso conosce il buon Morgan che vive con il figlioletto Dwayne e che gli spiega come eliminare gli zombie, ma anche che l'esercito sembra avere tutto sotto controllo nelle grosse città. Rick ci crede e parte per raggiungere Atlanta, solo che la trova completamente invasa dagli zombie e si salva per il rotto della cuffia grazie a Glenn, un altro sopravvissuto che si trovava in città per recuperare provviste in compagnia di altri volontari, tra i quali la determinata Andrea e Merle, un individuo leggerissimamente razzista che sembra avercela a morte con tutti, ma di più con quelli di colore e che viene ammanettato a una certa per evitare che faccia danni. Solo che gli zombie stanno entrando nell'edificio, quindi i nostri scappano e nella confusione la chiave delle manette di Merle finisce nello scarico e quindi possiamo ufficialmente definirlo spacciato. Per uscire da lì i nostri usano un bel trucco, ricoprirsi di frattaglie di zombie per mascherare il loro odore e farla franca. È un ottimo piano, a meno che non inizi a piovere, cosa che puntualmente avviene. Riescono comunque a fuggire per tornare nel principale accampamento dei sopravvissuti nei boschi alla periferia di Atlanta e qui Rick rincontra proprio la sua famiglia, sua moglie Lori e il figlioletto Carl. Si sono salvati grazie a Shane, partner sul lavoro e miglior amico di Rick che li ha portati lì, ma c'è un piccolo problema. Shane e Lori si sono avvicinati un po' troppo quando pensavano che Rick fosse morto e ora Lori, molto in colpa, torna dal marito provocando un serio disappunto in Shane. Nel gruppo c'è anche Daryl, il fratello di Merle, che ovviamente prende male la notizia che suo fratello è stato abbandonato, ammanettato sul tetto di un palazzo, quindi torna in città per salvarlo solo per scoprire che si è salvato da solo, amputandosi la mano e ora nessuno sa dove sia. Purtroppo l'accapamento non è sicurissimo e dopo un assalto di zombie che provoca alcuni morti, i nostri scelgono di cercare un nuovo posto in cui insediarsi e partono per trovare una nuova casa. Raggiungono la sede più vicina del centro di controllo malattie che è ormai abbandonato e gestito da un solo ricercatore, Edwin, che sembra molto tranquillo ma in realtà è ormai fuori di testa e vuole far saltare in aria l'edificio con tutti loro dentro. Alla fine il gruppetto riuscirà a uscire ma prima di morire Edwin rivela un segreto a Rick, una cosa che lo sconvolge veramente. Il centro salta in aria con il povero Edwin dentro e ai nostri tocca cercare una nuova casa. Il viaggio è parecchio lungo, mentre il gruppo cerca di sgombrare un'autostrada per proseguire, Shane viene assalito da un'orda di zombie e la piccola Sofia, la figlia di Carol, fuggendo dalla minaccia, sparisce nel nulla. Così i sopravvissuti iniziano a cercarla e il povero Carl viene centrato da una fucilata sparata da Otis, un cacciatore che stava cercando del cibo. Otis porta i nostri dove vive, nella fattoria di Herschel, un veterinario che riesce a ricucire Carl e salvagli la vita e che accetta di ospitare tutti in attesa che il bambino si riprenda. Shane e Otis vanno a cercare medicinali per Carl, ma il primo, sempre più instabile e furioso per la fine del suo rapporto con Lori e per il crollo della sua leadership a opera di Rick, si sbarazza del secondo pur di salvarsi dagli zombie e riporta i medicinali agli altri senza rivelare il suo ruolo nella morte di Otis. Anche grazie alle medicine Carl inizia a riprendersi, mentre Glenn intraprende una relazione con Maggie, una delle figlie di Herschel. E' certo che mi sembra una cosa molto realistica, se io fossi finito nel bel mezzo di un'apocalisse zombie, con ogni probabilità mi sarei ritrovato quasi sempre in compagnia di gente come Merle e difficilmente con gente come Maggie, però, vabbè, questa è finzione. Quando Glenn finisce nel fienile per organizzare un appuntamento romantico, scopre che è pieno di zombie perché Herschel non li uccide mai, sperando che un giorno sia possibile trovare una cura, e li rinchiude lì dentro. Ovviamente è pericolosissimo e Shane sbrocca male, spalancando il fienile per farli fuori tutti, scoprendo che lì dentro c'era pure Sofia, che quindi era già morta da tempo e viene eliminata sotto gli occhi della disperata Carol. Diciamo che la cosa acuisce le tensioni fra Rick e Shane, tensioni aggravate dal fatto che Lori ha scoperto di essere incinta e sapendo che c'è il rischio che il figlio sia di Shane, confessa la relazione a Rick, che non la prende benissimo, comprensibilmente. La situazione si aggrava quando i nostri incappano in un altro gruppo di sopravvissuti abbastanza minacciosi e li abbattono prendendo in ostaggio uno di loro. Rick non se la sente di ammazzare pure lui, ma sarà Shane a farlo, in gran segreto, facendo credere che sia fuggito. Così, mentre i due lo vanno a cercare, i nodi vengono al pettine e Shane sembra ammettere di volersi sbarazzare di Rick per sostituirsi a lui nel gruppo e con Lori. I due litigano e Rick uccide il suo miglior amico, che però ritorna in vita come zombie nonostante non fosse stato morso. Lo ucciderà Carl, ma lo sparo attirerà tutti gli zombie dell'area nella fattoria, costringendo tutti quanti, compresi i legittimi abitanti del luogo, ad abbandonarlo per cercare una nuova sistemazione. Andrea resta isolata dal gruppo e incontrerà un personaggio misterioso, che scopriremo in seguito, mentre gli altri, durante una pausa, verranno messi al corrente da Rick del segreto che Edwin gli aveva rivelato nel centro medico. Non è il morso a trasformarti in uno zombie. Tutti sono già infetti e alla loro morte si tramuteranno i morti viventi esattamente come era accaduto a Shane. E Rick prende in mano le redini del gruppo, affermando che non è più una democrazia, che suona parecchio minaccioso, ma vabbè, se gli altri non si lamentano, sta bene pure a noi. Passano otto mesi con i nostri in perenne fuga che si portano appresso una lori col pancione. Finalmente sembrano trovare il rifugio perfetto, un carcere. Certo, va prima sgomberato dagli zombie, ma una volta messo in sicurezza potrebbe davvero tenere i mostri alla larga. In più, adesso, quando uno di loro viene morso, come accade purtroppo a Herschel, i nostri, sapendo che il morso accelera il contagio ma non lo provoca, amputano alla belle meglio gli arti morsicati per mantenere in vita il poveretto. Trovano anche un gruppetto di detenuti che non hanno idea di quanto sia grave la situazione là fuori. Il leader dei detenuti, Thomas, cerca subito di impossessarsi della leadership tentando di ammazzare Rick dando la colpa agli zombie, ma il poliziotto lo fa fuori subito per ristabilire le gerarchie e gli altri detenuti accettano di cooperare. Nel frattempo Andrea ha vissuto all'adiaccio tutto questo tempo in compagnia di colei che l'ha salvata alla fattoria, Michonne, un ex avvocato armato di katana che sgomina gli zombie come se niente fosse. Le due sono diventate amiche, viaggiano insieme e un giorno incappano in Merle, il fratello di Daryl, perché ora si è creato una protesi alla mano che lo fa sembrare un cattivo della Marvel e che le conduce a Woodbury, una vera e propria cittadina funzionante, protetta e organizzata. A guidarla c'è il governatore, un individuo affascinante, carismatico e molto gentile, al punto che Andrea inizia a provare qualcosa per lui, ma Michonne è convinta di non doversi fidare e chiede di potersene andare. E aveva ragione Michonne, perché il governatore è un folle pericoloso che uccide altri sopravvissuti per accapararsi le loro risorse, organizza incontri di lotta con zombie per divertire la popolazione, tiene in casa una sorta di acquario pieno di teste di zombie e accudisce alla sua figlioletta zombie che continua a tenere in vita. Intanto le carceri sopravvissuti fanno fronte a un attacco, proprio mentre Lori ha le doglie. Sarà Maggie a compiere un cesareo, dando alla luce la piccola Judith, ma Lori non sopravvive all'operazione e toccherà a Carl ucciderla prima che diventi uno zombie, poco traumatizzante come cosa. La sanità mentale di Rick inizia a vacillare, si convince di poter parlare con la moglie morta tramite un telefono, è vittima di visioni e la cosa finisce per inclinare la sua leadership. Merle incontra casualmente Maggie e Glenn e finisce per rapirli per portarli a Woodbury e sapere tutto sul loro nuovo gruppo, ma Michonne ha assistito alla cosa e si reca alla prigione per avvertire Rick e soci del problema. Così li conduce alla cittadina per salvare i loro due compagni e cerca anche di uccidere il governatore, ma finisce per ammazzare sua figlia e accecarlo, costringendolo da qui in avanti a indossare una benda. Il salvataggio è riuscito, ma ora il governatore sa dell'esistenza di questo gruppo e vuole distruggerlo. In più anche Merle, una volta ritrovato il fratello, ha abbandonato Woodbury, ma nessuno lo vuole con sé, quindi sarà Daryl a lasciare il gruppo di Rick per stare con il fratello, ma ci metterà poco a capire di essere cambiato, mentre Merle è rimasto il solito squalido individuo. Andrea cerca di parlamentare fra i due gruppi, ma più scopre cose, più si rende conto che il governatore è molto pericoloso. Alla ricerca di nuove armi, i nostri tornano nel paese natale di Rick perché suo figlio è morto e lui è diventato un'ammazza zombie che rivedremo poi in futuro. Il governatore capisce che Andrea ormai non si fida più di lui, quindi la imprigiona prima che possa trasferirsi dagli altri e dichiara guerra al carcere. Complice all'arrivo di nuovi sopravvissuti capitanati da Tyrese e Sasha, ora è possibile affrontare le forze di Woodbury proprio mentre arrivano per impossessarsi della prigione e distruggere tutti, e vengono respinti. Il povero Merle finirà per diventare uno zombie ed Eril, seppur dolorosamente, dovrà ucciderlo. Durante la ritirata i cittadini di Woodbury si ribellano all'ormai instabile governatore che inizia a sparare su di loro per poi andarsene con i pochi sgherri fidati. Così quando Rick e i suoi raggiungono la cittadina non c'è più traccia di lui, in compenso assistono alla morte della povera Andrea, morsa da uno zombie, e prendono la decisione di ospitare tutti gli innocenti abitanti di Woodbury nella prigione, creando così una nuova comunità. E la nuova comunità sembra funzionare discretamente bene fino a quando un maiale morto si rivela il primo sintomo di una malattia che inizia a colpire parecchie persone. Quando la fidanzata di Tyrese si infetta viene ritrovata poco dopo carbonizzata e la responsabile è Carol che stava cercando di arrestare i contagi. Rick è costretto a bandirla dalla comunità anche se lei è convinta di aver fatto la cosa giusta. E comunque la situazione peggiora perché l'epidemia si estende tra le mura del carcere e molti finiscono per restarci secchi. E in mezzo a tutto questo caos ritorna il governatore. Già, che fine aveva fatto lui? Eh, se l'era data a gambe dopo essersi rivoltato contro il suo stesso popolo, ha incontrato una famiglia e si era unito a essa in cerca di espiazione. Quando però aveva rincontrato suo ex compagno Martinez e scoperto che si era procurato un praticissimo carro armato gli era tornato il desiderio di vendetta nei confronti di Rick. Quindi si era sbarazzato di Martinez tornato a essere il leader del gruppo e si ripresenta adesso davanti al carcere per il secondo round. Stavolta si gioca pesante perché ci lascerà la pelle pure il povero Herschel che poraccio ne ha passate di ogni. E poi il governatore entra direttamente col cingolato scatenando una battaglia campale che culmina con la sua morte e opera di Michonne ma anche con l'invasione di zombie che possono finalmente reimpossessarsi del carcere che di conseguenza va abbandonato. A questo punto la comunità si divide in tanti microgruppi che seguiremo nelle loro differenti storyline. Rick è gravemente ferito rischia persino di restarci secco ma Carl che ormai è diventato uno schillatissimo giovane ammazza zombie baderà a lui fino a quando non si riprenderà abbastanza da proseguire la fuga. Daryl è fuggito con Beth la sorella minore di Maggie e i due finiscono per comportarsi come un'adorabile coppietta solo che un giorno Beth viene inspiegabilmente rapita da degli sconosciuti lasciando un Daryl disperato e disposto a tutto pur di salvarla. Tyrese si sta occupando della piccola Judith e rincontra Carol che ora sta badando a due sorelline come fossero figlie sue. Peccato che le due ragazzine non stiano benissimo infatti una ammazza l'altra perché vuole che diventi un pratico zombie da compagnia e Carol è costretto a farla fuori perché è parecchio pericolosa. Anche Glenn e Maggie sono stati separati dalla distruzione del carcere ma riescono finalmente a ricongiungersi e saranno loro a incontrare un trio di nuovi personaggi Abraham un militare bello tosto con baffi da imitare immediatamente la fidanzata Rosita che oggettivamente da qui in avanti diventa il mio principale motivo di interesse nei riguardi della serie e soprattutto Eugene che afferma di essere uno scienziato che deve raggiungere Washington perché sa cosa abbia scatenato l'epidemia e sa come fermarla quindi deve riunirsi ai suoi colleghi e Abraham lo sta proteggendo per giungere a destinazione. In sostanza tutti i gruppi finiranno per cercare lo stesso luogo un avamposto di sicurezza noto come Terminus e lì si riuniranno questo sembra effettivamente un luogo zeppo di persone amichevoli ma come abbiamo visto con Woodbury non è mai il caso di fidarsi delle persone amichevoli e infatti scopriamo che questi sono dei cannibali che intendono trarre ispirazione dagli zombie e usare i nostri come scorta di cibo in effetti i nostri rischiano di diventare degli spezzatini se non fosse per l'intervento di Carol e Tyrese che giungono sul posto e provocano un'esplosione che fa accedere gli zombie alla struttura i cannibali vengono rapidamente soverchiati e il team di sopravvissuti può riprendere la ricerca di una nuova casa dopo aver distrutto Terminus incontrano un altro superstite un prete padre Gabriel che li ospita nella sua chiesa e qui decidono tutti di unirsi alla missione di Abram ovvero raggiungere Washington con Eugene per permettergli di risolvere l'apocalisse zombie prima però Daryl chiede di andare in soccorso di Beth della quale effettivamente ci eravamo tutti dimenticati scopriamo che la ragazza è prigioniera di uno stranissimo ospedale gestito da medici e poliziotti tutti in divisa e tutti che si comportano più o meno normalmente salvando le persone bisognose per poi però costringerle con le buone e anche con le meno buone a lavorare per loro Beth tenterà la fuga insieme a un altro ragazzo ma non è così facile e quando il nostro gruppo di eroi troverà l'ospedale proporrà uno scambio di prigionieri avendo catturato alcuni dei loro solo che Beth sceglie la gloria e cerca di ammazzare la leader dell'ospedale finendo malissimo addio coppietta con Daryl ripreso il viaggio arriva un'altra sorpresa Eugene non è uno scienziato è una persona normalissima appassionata di scienze che si è inventato questa balla per sopravvivere ottenendo protezione da Abram che infatti lo gonfia di mazzate e a me viene da dire amici va bene tutto ma questo è uno scienziato col mallet voglio dire oggettivamente quanto era credibile però lui aveva pensato anche a questo dicendo che aveva creato questo aspetto per non suscitare troppe attenzioni e sa raccontare benissimo le balle quest'uomo perderanno anche il povero Tyrese che si fa mordere come un cretino cercano di amputargli l'arto ferito come fecero con Herschel ma a lui non va altrettanto bene ormai allo stremo il gruppo di superstiti crede che sia tutto finito e qui incontrano Aaron un giovanotto molto amichevole che propone loro di entrare a far parte della sua comunità ormai abbiamo imparato la lezione quando uno è amichevole probabilmente è uno psicopatico quindi Enrique e soci lo trattano male e lo costringono a portargli alla suddetta comunità scoprendo che stava dicendo il vero si tratta di Alexandria un vero e proprio sobborgo aristocratico vicino a Washington progettato inizialmente come rifugio per politici protetto da ampie mura nella quale vivono delle persone che cercano di ricostruirsi una vita normale la leader è la senatrice Deanna che accoglie tutti attraverso dei colloqui di lavoro per stabilire quali potrebbero essere le loro mansioni se decidessero di restare lì tutto davvero molto bello e tutti scelgono di restare ad Alexandria se non fosse che Rick che diventerà una sorta di poliziotto di quartiere inizia subito a ipotizzare di impossessarsi di quel posto perché i cittadini di Alexandria sono troppo deboli e non saprebbero reggere un assalto zombie rischiando di sprecare le opportunità magnifiche di quel luogo a riprova di quel che stavo dicendo Rick finisce per scontrarsi col chirurgo della comunità Pete perché picchia sua moglie e Rick vive male il fatto che qualcuno possa abusare così della persona che lo ama mentre lui l'ha perduta per sempre dato che Deanna non vuole intervenire perché il chirurgo è una persona importante Rick finisce per risolvere la faccenda a mani in faccia e minacciando persino di ammazzarlo in pubblico perché ormai si comporta come un selvaggio ma sarà Michonne a fermarlo nell'unica maniera possibile in teoria Rick andrebbe sbattuto fuori ma quando Pete ubriaco scatena una rissa nella quale uccide il marito di Deanna la donna autorizza Rick ad ammazzarlo e complice all'arrivo del buon vecchio Morgan anche lui in viaggio in cerca di una nuova casa ecco che i nostri finiscono per diventare membri integranti della comunità e così la vita ad Alexandria scorre più o meno tranquilla perché ci sono Rick e soci a tenere la comunità al sicuro Rick sembra intraprendere una nuova relazione con Jesse la moglie dell'uomo che ha ucciso che è un po' inquietante come cosa durante una normale procedura di deviazione di un'orda particolarmente grande però la cittadina viene assaltata da un branco di individui che cercano risorse così il caos attira gli zombie che finiscono per accerchiare il perimetro il povero Glenn resta fuori dalle mura e per colpa di un altro tizio che si toglie la vita pur di non cadere preda degli zombie pure lui ci finisce in mezzo Alexandria viene ben presto invasa dai morti viventi e Rick cerca di usare il solito trucchetto del coprirsi di frattaglie per nascondere l'odore e uscire con Jesse e il figlioletto ma quest'ultimo comprensibilmente è terrorizzato da una simile circostanza e viene divorato e vagante nella confusione e finisce per centrare dritto in faccia a Carl a questo punto rischierebbero tutti di restarci secchi se non fosse per l'arrivo degli altri che si trovavano fuori dalla cittadina compreso Glenn che non era morto si era fatto scudo con l'altro tizio per uscirne sano e salvo miracolosamente riescono a ripulire la città Carl sopravvive ed ora in avanti porterà una fighissima benda sull'occhio e i nostri inizieranno i lavori di ricostruzione di Alexandria e Maggie scopre di essere incinta di Glenn e tutto sembra di nuovo procedere bene al punto tale che scoppia la più imprevista delle passioni quella tra Rick e Michonne che oggettivamente proprio non ci aspettavamo ma ormai sappiamo che quando la quieta dura troppo sta per succedere qualcosa infatti Rick e Daryl incappano in un tizio molto abile nel combattimento che ha l'impegnativo soprannome di Jesus e che è venuto a chiedere il loro aiuto per conto della comunità della quale fa parte Hilltop la collina sembra effettivamente un posto bellissimo ricco di risorse pieno di brave persone ma il leader Gregory è un codardo di prima categoria sempre pronto a schierarsi col più forte e ha bisogno di braccia armate per sgominare i salvatori un altro gruppo di sopravvissuti che offrono protezione in cambio di una massiccia quantità di risorse in pratica spadroneggiando su tutti Rick accetta di dare una mano e si occupa di sparazzarsi dei salvatori ma sottovaluta leggermente la situazione dato che i salvatori sono molti di più e parecchio organizzati i nostri vengono catturati nel cuore della notte e portati al cospetto del leader dei salvatori Negan eccolo qui il villain più famoso e pericoloso di tutta la serie col suo giubbotto di pelle e la sua Lucille la mazza da baseball avvolta nel filo spinato Negan vorrebbe iniziare a prendere una percentuale anche delle risorse di Alexandria così sceglie di lasciarli andare ma non prima di aver ucciso uno di loro come insegnamento per quello che hanno fatto e qui la stagione si chiude proprio poco prima di scoprire chi sarà la vittima designata noi lettori del fumetto eravamo fermamente convinti di sapere già la risposta cioè che sarebbe stato Glenn a morire e invece c'è una mezza sorpresa infatti Negan qui sceglie di uccidere Abraham e io ho pensato wow quindi lasceranno in vita Glenn è interessante solo che Daryl subito dopo fa il cretino aggredendo Negan e questo dice ah sì allora ne faccio fuori un altro e ammazza pure Glenn ecco fatto lo ammazza davanti agli occhi di tutti soprattutto di Maggie che è incinta di suo figlio è una scena che ha sconvolto una buona fetta del pubblico della serie tv Rick è fuori di testa vuole ammazzare Negan ma sa di non poterlo fare perché è troppo potente e organizzato deve giocare d'astuzia così finge più o meno di accettare le sue condizioni e i salvatori iniziano a presentarsi regolarmente anche ad Alexandria per sequestrare un po' di scorte e godersi del tempo libero come se fossero i padroni di tutto quanto non tutti sono d'accordo con questa situazione e tra questi c'è Carl che si nasconde su uno dei furgoni dei salvatori e appena tornano al loro quartiere generale il santuario ammazza alcuni di loro pur di far fuori Negan questi si esalta di fronte al ragazzetto killer gli fa fare un giro delle sue proprietà e poi lo riporta a casa senza neanche torcergli un capello intanto dopo un fallito attentato di Rosita e danni di Negan questi scopre che Eugene sta fabbricando proiettili per Alexandria una merce ormai molto rara e quindi Negan gli dice guarda bello mio facciamo che tu adesso vieni con noi e i proiettili li fabbrichi per noi e diciamo che Eugene non ha molta scelta se non quella di unirsi a loro Rick però sa di poter sconfiggere Negan solo riunendo tutte le comunità per lottare come un fronte unito però non è facile accordarsi a Hilltop Gregory ovviamente non ne vuole sapere perché ha paura ma la popolazione è più schierata dalla parte di Rick anche grazie a Maggie che ora vive lì perché hanno un medico che potrà farla partorire poi Rick scopre un'altra comunità il regno guidata da re Ezekiel che si fa sempre proteggere da Shiva una tigra da compagnia in computer grafica no non è un vero re è un ex guardiano dello zoo che dopo l'apocalisse ha scelto di essere ciò che più ama e tra lui e Carol sembra nascere qualcosa ci sono poi altre due comunità Oceanside costituita solo da donne perché gli uomini sono stati uccisi dai salvatori e gli scava rifiuti che sono meravigliosi vivono in una discarica e la loro leader Jedis getta Rick in un'arena di spazzatura per combattere uno zombie con gli aculei per dimostrare il suo valore cioè sembra Mad Max lui lo fa e loro alla fine si accordano però c'è un anello debole è Dwight un collaboratore di Negan che in realtà lo odia perché gli ha soffiato la fidanzata lo ha sfigurato e lo ha totalmente soggiogato quindi gradirebbe fargliela pagare Rick unito agli scava rifiuti tenta il colpo di stato per rovesciare Negan ma va malissimo perché gli scava rifiuti lo tradiscono in favore di Negan quindi quest'ultimo crede di dover ammazzare un altro dei suoi per fargliela pagare ma plot twist arrivano i membri del regno e di Hiltop che riescono a far battere in ritirati i salvatori e questo è ufficialmente l'inizio della guerra totale parte subito a contrattacco con l'esercito di Rick che arriva al santuario per abbattere Negan quest'ultimo si gioca la carta Gregory solito vigliaccone che ritiene che Hiltop sia schierata con lui peccato che adesso la collina abbia letteralmente proclamato Maggie nuova leader e quindi lui non serva più a nulla i nostri attirano zombie dentro il santuario per bloccare gli avversari anche se Negan si salva e ricompatta le fila del suo esercito da qui in poi assisteremo a diversi assalti a diverse cellule dei salvatori alcune andranno bene e altre andranno decisamente male come quella che vede il regno in seria difficoltà con il povero Ezekiel che si salva insieme a Carol ma assiste alla morte della dorata tigre Shiva è la morte più struggente della serie cioè io l'ho patita più della morte di Lori per dire allora Rick torna rivolgersi agli scavarifiuti e riesce finalmente a convincerli a raggiungere il santuario circondato per tutte solo che quando arrivano lì scoprono che l'edificio è vuoto Negan e i suoi hanno ammazzato abbastanza zombie da permettere loro di andarsene e adesso tocca ai cattivi assaltare e conquistare sia Alexandria che Hilltop Rick raggiunge i suoi fuggiti da Alexandria e scopre che Carl sta morendo perché si è lasciato mordere come un cretino dannazione e quindi Carl muore lasciando una lettera a suo padre nella quale cerca di spingerlo alla pace e una lettera a Negan che è un colpo bassissimo perché a Negan il ragazzo piaceva e forse la sua lettera potrebbe toccarlo nel profondo però intanto Negan manda il suo luogotenente Simon a vendicarsi degli scaverifiuti che vengono ammazzati tutti tranne la loro leader Jedis che poi dovrà sbarazzarsi di tutti gli ex amici diventati zombie siccome la fabbricazione di proiettili da parte di Eugene necessita di troppo tempo Negan elabora un'ottima idea impregnare le loro armi con carne di zombie così anche la più piccola ferita di striscio diventa letale Rick riesce a cogliere di sorpresa Negan tentando di abbatterlo in uno scontro uno a uno ma fallisce e l'altro si defila però la sparizione di Negan porta Simon a reclamare la sua leadership e organizzare un assalto a Hilltop che sembra funzionare anche perché le armi avvelenate trasformano letteralmente tutti in zombie Negan cade invece vittima di Jedis in cerca di vendetta Negan però riesce a usare un flare per attirare un elicottero che non sappiamo di chi sia compara l'improvviso ma senza riuscire a farsi salvare in compenso lui e la donna legano e scopriamo che Negan una volta era una persona normale che amava sua moglie Lucille da cui il nome della mazza e così si fa liberare ritorna tra i suoi ammazza il traditore Simon e poi scopre persino il potenziale tradimento di Dwight così vuole usarlo per attirare Rick in una trappola la trappola alla fine dopo una serie di giravolte riesce e Rick sembra spacciato se non fosse che tutte le armi dei salvatori esplodono perché Eugene le ha sabotate e così avviene lo scontro finale tra Rick e Negan dove il primo chiede al secondo di fare pace in nome di Carl e Negan sarebbe anche d'accordo ma era un barbatrucco di Rick pur di abbatterlo solo che Rick non vuole che Negan muoia e lo fa salvare dal medico nonostante Maggie sia furiosa perché dai ha ucciso Glenn ma Rick ha un piano creare una nuova comunità e tenere Negan prigioniero a vita affinché veda quello che stanno facendo senza potervi mai partecipare ed ecco finalmente la pace e la serenità sì come no già lo sapete Maggie è diventata la leader di Hilltop dopo democratiche elezioni ma Gregory è talmente scemo che organizza un attentato per sbarazzarsi di lei ovviamente fallisce e Maggie lo fa giustiziale sulla pubblica piazza tanto per stabilire che lei è un capo più feroce di Rick per aiutare le singole comunità a compiere scambi commerciali Rick decide di avviare i lavori di ricostruzione di un gigantesco ponte che potrebbe collegarli più facilmente anche se coordinare i membri di ex comunità separate che magari si stanno ancora sulle palle non è facile e poi c'è la questione Negan Maggie lo vuole morto e Daryl l'aiuta distraendo Rick abbastanza lungo da permetterle libertà di azione quando Rick cerca di raggiungerla finisce preda degli zombie e resta ferito molto gravemente Maggie raggiunge Negan che è chiuso in cella da anni ormai e si vede dal fatto che sembra diventato una ameba che vuole solo morire quindi Maggie pensa ok mi piace l'idea che tu soffra ancora per tanti anni chiuso qui dentro sai quindi resta lì Rick è ferito malamente tenta di tornare a casa ma non ci riesce quando capisce che gli zombie potrebbero attraversare il ponte e assaltare la sua comunità sceglie di sacrificarsi facendo saltare in aria il ponte sotto gli occhi dei suoi amici ma qui interviene Jedis che ha capito come richiamare l'elicottero che aveva visto arrivare nella precedente stagione così lo fa atterrare e ci sale insieme a Rick Grimes uscendo letteralmente dalla serie vi giuro il protagonista di The Walking Dead abbandona la serie ancora in svolgimento in una maniera del tutto randomica a questo punto facciamo un salto in avanti di almeno 6 anni perché vediamo Judith la figlia di Rick che adesso è una ragazzina con tanto di cappello del babbo salvare un nuovo gruppo di superstiti e condurli nella nuova Alexandria gestita da una Michonne ancora più incattivita anche per via dell'addio di Rick e Zikiel e Carol stanno insieme sono praticamente il re e la regina e hanno adottato un giovane orfano Harry Daryl vive isolato nella foresta come un'eremita insieme al suo cane ma accetta di unirsi a Carol e il ragazzo in un viaggio verso Hilltop intanto padre Gabriel lo so alcuni personaggi li ho presi poi li ho abbandonati poi li riprendo adesso lo sapete per garantire fluidità al racconto vuole provare ad attivare una radio per comunicare con altre comunità e soprattutto ha rimorchiato Rosita grande padre Gabriel il vero Chad della serie con l'aiuto di Eugene Rosita vorrebbe impiantare amplificatori per il segnale radio ma rischiano di farsi beccare da una particolare orda di zombie questi sono zombie che parlano anziché sussurrano tra di loro Rosita raggiunge alcuni membri di Hilltop ma Eugene resta là fuori così parte una squadra di soccorso ad Alexandria scopriamo che Negan adesso sta un po' meglio aiuta Judith con i compiti e sembra essersi ripreso ma per colpa di una disattenzione di Gabriel la porta della sua cella rimane aperta e Negan ne approfitta per scappare solo che tornato al suo santuario scopre che adesso è tutto diverso non c'è più nulla per lui e così ritorna nella sua cella il gruppo di soccorso ritrova Eugene ma incappano negli zombie che sussurrano e Jesus tentando di fermarli combatte ad armi pari con uno di questi e muore c'è decisamente qualcosa che non va questi combattono pure e i nostri lo scopriranno subito non sono zombie sono umani che si vestono con pelle di zombie per mescolarsi tra di loro e usarli come protezione sono i sussurratori Michonne cattura una di loro Lydia e la porta Hilltop come prigioniera e qui purtroppo Henry si prende una cotta per lei il problema è che Lydia è la figlia della leader dei sussurratori Alpha una donna spietata che si presenta a Hilltop con prigionieri per compiere uno scambio e riavere indietro sua figlia i nostri devono farlo ma capiscono che Alpha fa vivere alla povera Lydia una vita di inferno così Daryl e Henry partono per andare a riprendere la ragazza e ci riescono nonostante debbano affrontare il luogotenente di Alpha Beta che è discretamente impegnativo da combattere al regno intanto si sta per svolgere una fiera voluta da Ezekiel per riunificare tutte le comunità in un evento di festa e far loro firmare un trattato di collaborazione come se fosse la nuova costituzione solo che nessuno si è accorto che Alpha si è infiltrata alla fiera e che riesce a rapire alcuni personaggi chiave per mostrare loro un gigantesco esercito di zombie al suo servizio intimandoli di stare alla larga e poi libera i nostri solo per mostrare loro di aver tracciato un confine tra i loro territori con le teste di molti dei loro cari tra cui il povero Henry arriva l'inverno una brutta tempesta di neve costringe ad alcuni spostamenti di emergenza Judith rischia grosso per salvare il cane di Daryl e sarà Negan ormai legatissimo alla ragazzina a portarla al sicuro mentre altri uomini del regno spostandosi nella tormenta superano inavvertitamente i confini del territorio dei sussurratori che non la prendono bene c'è il rischio di un nuovo conflitto bisogna tornare ad addestrarsi per un'eventuale guerra ai sussurratori ma per ora sembra che la tregua stia ancora reggendo il conflitto crescente lo subisce molto Lydia per ovvie ragioni che è vista da tutti come un'infiltrata dei sussurratori così lei finisce per legare con l'altro outcast della comunità Negan che adesso si è guadagnato un po' di libertà vigilata certo quando Negan salva la vita di Lydia da un attentato ammazzando uno degli assalitori complica ulteriormente la sua posizione dato che ora il consiglio cittadino propone di giustiziarlo ma Negan Negan viene liberato in gran segreto e finisce per raggiungere Alpha e i sussurratori dicendo di volersi unire a loro perché gli altri lo vogliono morto Michonne attirata da un tizio che prometteva aiuti che in realtà non esistono trova però casualmente una traccia del fatto che Rick Grimes sia ancora vivo e così decide di partire per andare a ritrovare l'uomo della sua vita lasciando a sua volta la serie Alpha e Negan sembrano ritrovarsi di certo potrebbero essere la coppia più agghiacciante di sempre e per colpa di alcuni gesti plateali di Carol desiderosa di vendicare Harry Alpha decide di scendere in guerra la battaglia verrà a Hilltop e nonostante l'addestramento il luogo verrà dato alle fiamme in compenso scopriamo che Negan faceva il doppio gioco e ammazza Alpha a tradimento per poi riconsegnare la testa zombizzata a Carol la vera mandante dell'infiltrazione di Negan che può finalmente dirsi vendicata Beta scopre quello che è successo e innesca una seconda ondata per uccidere tutti ma stavolta interviene anche Maggie che si era assentata per alcuni mesi per collaborare con un'altra comunità insieme ad alcuni nuovi amici Daryl uccide finalmente Beta e tutti i sussurratori vengono ufficialmente sconfitti certo Maggie non apprezza l'idea di vedere Negan redento e ben accolto dal resto della comunità quindi si prevedono scintille vi ricordate la sottotrama della radio ecco Eugene becca accidentalmente un segnale e conosce una ragazza Stephanie che sembra vivere in un'altra comunità così Eugene parte per andarla a trovare ma giunto a quella che dovrebbe essere la destinazione lui e gli altri che hanno viaggiato con lui vengono catturati e arrestati da soldati in armatura bianca e questi chi sono quindi? queste sono le forze armate del Commonwealth una nuova comunità parecchio ben organizzata che sembra un paesino dei tempi andati dove tutto funziona alla perfezione sarebbe ottimale creare un rapporto con loro perché la situazione ad Alexandria che sta ospitando tutti dopo il rogo di Hilltop sia in termini di sicurezza che in termini di rifornimenti sta rapidamente precipitando potrebbero recuperare del cibo appartenente alla comunità conosciuta da Maggie ma tocca affrontare una setta di individui violenti noti come i mietitori lo scontro con loro separerà i nostri ingruppi dove Maggie e Negan nonostante si detestino dovranno cooperare e dove Daryl finirà invece per fare i conti con Leah la ex proprietaria del suo cane con la quale Daryl aveva avuto una fugace relazione sei anni prima nel periodo in cui si era rifugiato nei boschi dopo la scomparsa di Rick peccato che ora Leah sia una mietitrice trascinerà Daryl al cospetto del loro leader un pazzo totale con smagni di conquista che novità nel Commonwealth Eugene ha finalmente conosciuto Stephanie la ragazza del segnale radio e sembrano effettivamente stare bene insieme ma lui vorrebbe comunicare con i suoi senza farsi beccare dal generale Mercer il super capo della sicurezza non gli riesce ma così fa la conoscenza del vice governatore Lance Honsby che in realtà sembra desiderare a sua volta il contatto con altre comunità per fermare i mietitori Negan propone di usare lo stesso trucchetto dei sussurratori vestendosi con pelle di zombie e trascinando un'orda dritta dal nemico ed effettivamente funziona riuscendo anche a liberare Daryl Lea si ribella al capo completamente folle e lo uccide ma poi non tradisce i suoi compagni unendosi a Daryl ma le diventa il nuovo leader al termine di questo scontro Negan sceglie però di abbandonare il gruppo perché sa che Lee anche a causa di quello che ha fatto a Maggie non verrà mai accettato e non otterrà mai redenzione ma ecco che ad Alexandria arriva una delegazione del Commonwealth portata lì da Eugene con il vice governatore Lance e si offrono di ospitare tutti nella loro gloriosa città guidata dal governatore Pamela Milton e diciamo che i nostri appena hanno sentito la parola governatore infatti Maggie rifiuta la proposta ma molti altri accettano ed effettivamente sembra la scelta giusta c'è chi si adatta a una vita più tranquilla e chi si occupa della sicurezza insomma va tutto bene solo che qui i nostri eroi scopriranno qual è il vero nemico di quest'ultima stagione il capitalismo eh sì perché nel Commonwealth ci sono i molto ricchi e la plebaglia una demarcazione ribadita con le cattive quando qualcuno prova ad alzare la testa e voglio dire abbiamo superato l'apocalisse e poi riprendiamo le vecchie e gloriosi abitudini un piccolo colpo di scena coinvolge Eugene che scopre di essere stato ingannato Stephanie non è la sua Stephanie in realtà si chiama Sheera è stata scelta da Lance per carpire da Eugene eventuali segreti del suo gruppo e ovviamente questo distrugge il nostro poverino che però scoprirà di non essere stato sempre ingannato la sua Stephanie esiste veramente si chiama Max è la sorella del generale Mercer la loro love story via radio era vera ma poi lei è stata coperta da suo fratello per evitare che la punissero per l'uso abusivo della radio ed eccoli qua adesso però possono vivere la loro storia liberamente Aaron e Gabriel partecipano a una spedizione verso un condominio zeppo di persone che il Commonwealth vorrebbe includere nella sua giurisdizione e tra queste c'è Negan che seppur ha già fatto la famiglia nuova peccato che la spedizione abbia motivazioni punitive all'insaputa dei nostri perché Lance è convinto che quella piccola comunità sia responsabile di attentati contro il Commonwealth a tentati in realtà compiuti dalla rediviva Lea a questo punto è chiaro che il Commonwealth sia minaccioso e i nostri cercano di contrastarlo ma Lance è un passo avanti a loro e prima cerca di farli arrestare poi si coalizza con Lea per uccidere Maggie che entrambi detestano Lea tenterà di farlo ma verrà assassinata proprio dal suo ex amato Daryl infine Lance svela il suo piano trasformare tutte le comunità che conosciamo in colonie del Commonwealth conquista un ormai indebolita Alexandria conquista Hilltop e conquista persino Oceanside eliminando tutte le donne considerato però che nel Commonwealth si stanno generando i primi malumori sul dislivello sociale innescato dai nostri protagonisti Pamela Milton sceglie la via dell'opportunismo quando Daryl cattura Lance lei accusa quest'ultimo di tentata presa di potere e lo fa incarcerare calmando le acque peccato che anche Pamela Milton sia comunque un grosso problema e lo è soprattutto suo figlio Sebastian arrogante e sadico viziato come tutti i figli dei super miliardari tutto esplode durante una fiera nella quale Sebastian tiene un appassionato discorso ma Eugene e Max mandano in filo di fusione una sua registrazione carpita di segreto nella quale tratta tutti i cittadini come poveri idioti che vivono solo per arricchirli e si scatena la rivolta proletaria Lance non è del tutto sconfitto ha ancora dei fedelissimi che possono compiere degli attentati nel Commonwealth in suo nome e questi fanno entrare gli zombie in città per vendetta quando Sebastian cerca di uccidere Max gettandola fra gli zombie è Eugene a salvarla gettando il ragazzo tra le fauci dei non morti e nessun cittadino muove un dito per salvarlo Eugene finisce sotto processo per aver assassinato il figlio del governatore e tutti coloro che hanno aiutato vengono arrestati Carol e Daryl sono gli unici a sfuggire al rastrellamento uniscono le forze per risolvere la situazione e liberano Lance per avere delle info da lui scoprono così che i prigionieri vengono spediti in un luogo chiamato Avamposto 22 certo poi Lance prova a liberarsi loro l'ammazzano e vabbè si sapeva con l'aiuto di Maggie e dei suoi uomini i nostri scoprono che l'Avamposto 22 è Alexandria e al suo interno Ezekiel e Negan stanno già guidando una rivoluzione per liberare tutti e l'intervento degli altri è solo l'aiuto definitivo ah in questa circostanza scopriamo che gli zombie si stanno evolvendo aprono le porte come i raptor e si arrampicano benissimo e ora non resta da far altro che rovesciare il Commonwealth e salvare tutti gli altri il processo di Eugene non va a buon fine perché viene condannato a morte ma in sua difesa pronuncia un discorso talmente spettacolare da convincere molti cittadini generale Mercer che accetta di liberarlo in segreto e unirsi alla rivoluzione Pamela Milton però è pronta ad affrontarli richiama un'orda di zombie per circondare la città e creare un lockdown ignorando che gli zombie adesso si arrampicano quindi invadono la città e lei ovviamente sceglie di sacrificare i più deboli tra le vittime di questa fase c'è anche Rosita addio Rosita sappi che mi mancherai moltissimo tutti i poveri cittadini vorrebbero entrare nei quartieri di lusso che sono stati messi al sicuro mentre gli zombie arrivano e Milton ordina persino di sparare se dovessero riuscirci Maggie potrebbe uccidere il governatore ma sceglie di non farlo proprio come Rick aveva scelto di non uccidere Negan sperando che questo serva a qualcosa Daryl e Mercer arrivano in tempo per far arrestare il governatore mettere in salvo i civili e far saltare in aria tutti i quartieri invasi dagli zombie per distruggerli è finita i nostri eroi vivranno per sempre felici e contenti nel Commonwealth del quale Ezekiel diventerà poi il nuovo leader coadiuvato da Mercer e Carol che cercheranno di creare una società più equa e non so se l'ho pensata solo io sta cosa ma se volete una società più equa forse non è il caso di nominare come nuovo leader quello che fino a pochi anni fa si faceva chiamare il re però fate voi e il finale consiste letteralmente nel preparare il terreno per tutte le altre serie spin off Negan viene più o meno accettato da Maggie ed è il massimo che lei può fare per lui e saranno i protagonisti di The Walking Dead Dead City Daryl sceglie di partire per andare a cercare Michonne e Rick e sarà protagonista della sua serie solista Michonne è ancora in viaggio verso il suo obiettivo e vediamo persino Rick Grimes che sembra costantemente in fuga da questi misteriosi elicotteri che gli danno la caccia e anche di questi due piccioncini sapremo qualcosa nella serie The Walking Dead The One Who Lives ma per ora io non farò i recapponi di tutte queste abbiate pietà di me spero davvero che questo recappone incontri il vostro apprezzamento io vi ringrazio tantissimo per il sostegno che state dando al mio canale a tutti i vostri suggerimenti a tutti i vostri commenti e tutto il vostro spam dei miei video ai vostri amici e che dire appuntamento come sempre al prossimo video Grazie a tutti i nostri amici